Arrivano arrivano entro la fine del 2021 i sequel di due film tanto attesi bellissimi e fantastici degli anni 80. Vi do un indizio. Ovviamente sto parlando di Ghostbusters Legacy, sequel del film Ghostbusters 1 uscito nelle sale cinematografiche nel 1985 e di Ghostbusters 2 uscito nel 1989. Il secondo film che uscirà entro la fine dell'anno è Top Gun Maverick, sequel di Top Gun uscito nelle sale cinematografiche nel 1986. Ghostbusters Legacy dovrebbe uscire l'11 novembre e Top Gun Maverick il 19 novembre. Quando all'epoca uscirono nelle sale cinematografiche furono subito dei successi internazionali e pensare a questi sequel che a distanza di tanti anni usciranno praticamente a distanza di una settimana uno dall'altro crea veramente tanta aspettativa e tanto entusiasmo. In descrizione vi lascio il link di entrambi i trailer ufficiali. Buona visione!